Quello di cui parliamo oggi è una cosa che mi colpisce parecchio e riguarda l'ecologia. Ora l'ecologia è una cosa che ha un certo peso, ha una certa importanza e anche un certo significato. Solo che questo significato cambia, cambia in base a come noi ne parliamo, cambia in base al modo in cui noi percepiamo la parola ecologia. C'è chi la percepisce come un'idea e in quel caso la può percepire bene o male o indifferentemente se vogliamo. E quindi come un'ideologia, c'è chi vive l'ecologia come un certo modo di comportarsi e quindi è più o meno critico di questa ideologia. C'è chi vive l'ecologia come una scienza e vorrei riflettere un attimo sull'economia, su un parallelo tra ecologia ed economia, partendo da due piante in particolare, la reinutra japonica e ailantus altissima. Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, il podcast per chi pensa che un giardino... Beh, insomma, non ci sono persone a cui non farebbe bene. Poi, ecco, giardino, per come lo intendo io, in questo momento, in questo frangente, può riguardare un po' tutto. Il bosco, una prateria, un giardino ben coltivato, un giardino un po' abbandonato, un giardino privato, un giardino pubblico, però, insomma, un posto in cui crescere insieme ai fili d'erba e alle piante e in cui far crescere la propria anima e in cui far crescere delle piante che magari non sono proprio buone per un ecosistema, non sono proprio buone per l'ecologia. E quando dico buone per l'ecologia mi riferisco al fatto che l'ecologia è una scienza. Cioè, l'ecologia non è un insieme di idee, di pensieri, di opinioni riguardo al modo di comportarsi nella natura, nel mondo. Non è il comportiamoci bene perché sennò madre natura piange. C'è anche questo, c'è anche, come dire, e sto banalizzando molto in questo caso, io non sto prendendo una posizione perché non voglio prendere una posizione contro l'ecologismo. Voglio dire che quando io, quando io, me, Francesco, parlo di ecologia mi riferisco soprattutto allo studio degli ecosistemi, allo studio delle piante, delle popolazioni di piante, delle relazioni tra piante in un luogo, con un luogo, con gli animali, con il clima. E di come queste cose cambiano nel tempo. L'ecologia studia un rapporto dinamico, una cosa che non si ferma mai, non esiste un ecosistema che rimanga fermo nel tempo. E proprio parlando di ideologia, molte persone quando sentono cose del genere, se magari sono critiche verso l'ecologismo, dicono, ah, vedi, se tutto è sempre in movimento, allora non dobbiamo porci problemi. No, l'ecologia studia proprio come la rottura di questi equilibri poi possa portare a delle cose devastanti per l'ecosistema, per l'equilibrio biologico, per la sopravvivenza di specie, animali e vegetali che hanno vissuto nei secoli adattandosi a quel luogo. Solo che se anche dico questa cosa, no, anche se parlo di collasso biologico di un posto, questa cosa non fa molto effetto, perché noi in qualche modo abbiamo l'idea che alla fine una soluzione si possa trovare, che alla fine un albero valga l'altro, che se io mi ritrovo un bosco di ailanti al posto di un bosco di... al posto di una faggeta, beh, alla fine che problema c'è? Ora, se io invece dicessi che ci sono dei problemi dal punto di vista economico, allora magari in quel caso, in quel frangente, ci troviamo a essere un po' più sull'attenti riguardo a questa situazione. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che se io dicessi che c'è una pianta che è dannosa per l'economia, allora qualche orecchio in più potrebbe rizzarsi in maniera più, come dire, più facilmente. E facciamo proprio l'esempio di Aelantus altissima, che è una pianta molto invasiva in Italia, in Europa, è una pianta che riesce a colonizzare facilmente ambienti in cui lei non è nata. Ed è un'allotona, quindi una pianta non autoctona, una pianta che viene da fuori, invasiva. È una neofita, neofita, cioè una nuova pianta invasiva, al contrario di archeofita, come ad esempio il cipresso, che è una pianta che è arrivata tanti e tanti secoli fa in Italia. Ora, l'ailanto può provocare allergie, può uccidere piante che si trovano sul proprio percorso, può insomma creare dei problemi e va combattuto ed è difficile da combattere. È difficile da combattere perché ricresce, ricresce, ricresce. E questa cosa ovviamente consuma risorse, quindi capisci c'è un impatto economico di una pianta invasiva, ma ci sono piante invasive il cui impatto economico diventa proprio devastante da un certo punto di vista. Se torniamo alla pianta che abbiamo citato prima, la reinutria japonica, che è una pianta che il nome suggerisce non venire dal Trentino Alto Adige, ho letto delle cose che mi hanno colpito. Per esempio, il fatto che se quella pianta è presente in una proprietà, il valore stesso dell'immobile con il giardino può diminuire di una percentuale tra il 5 e il 15%, non è poco. E addirittura che ci sono banche che rifiutano mutui se riguardano case infestate da reinutria japonica. Ora questa pianta quando è arrivata è arrivata in un momento di liberazione filosofica e iconografica del giardino, la fine dell'Ottocento, nel periodo di Gertrude Jekyll, nel periodo in cui il giardino si faceva bordura mista, in cui si faceva libertà, in cui si faceva colore, in cui si faceva forme che si liberavano dalla rigidità sia del giardino all'italiana sia dalla potatura ossessiva del giardino all'inglese. E siccome queste piante erano anarchiche, appunto io semino, pianto la reinutria japonica, il poligono del Giappone, il poligono del Giappone, tu come lo dici? Per sapere. Io che le parole greche sono sempre in dubbio sull'accento e sappi che di solito le parole greche si possono pronunciare in tutti i tuoi modi e l'italiano non lo consente. Comunque, quando vedevano che una pianta del genere cresceva così tanto, beh allora vai, 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 favoriscila, falla crescere e noi adesso ci troviamo a pagare lo scotto di questa scelta, di questa visione poco ecologica del giardino, di questa visione ideologica, se vogliamo, no? Cioè il giardino vuole liberarsi e quindi io metto tutte le piante che crescono perché il giardino non si deve porre determinati problemi, ma poi nel tempo ci siamo, come dire, affrontiamo questi problemi e tentiamo di trovare delle soluzioni. Ma di fronte, se io andassi davanti a un gruppo di persone che non è molto interessato né all'economia né all'ecologia e dicessi l'aria nutria japonica è un grave problema per l'equilibrio biologico della tua regione. Ad esempio in Italia è molto diffuso, cioè si trova soprattutto lungo il corso del Po, mi pare di aver letto in Sicilia, non è ancora così diffusa come nel Regno Unito. Se io dicessi che questa pianta provoca appunto uno sconquasso biologico, magari sì, ci sarebbe un po' qualche scuotimento di testa, ma a mio avviso non una grande preoccupazione. Se dicessi invece che questa pianta abbassa il valore immobiliare di proprietà, che questa pianta può addirittura portare una banca a rifiutare un mutuo, allora ci si, come dire, mobiliterebbe molto presto. E questo per mille motivi, perché i soldi sono una cosa importante nella nostra vita, perché ci va a toccare nella quotidianità, mentre l'equilibrio biologico ci sembra appunto una cosa molto lontana, una cosa con cui possiamo convivere, come la violenza, come la violenza nel mondo. Sì, è brutta, ma finché non mi tocca posso in qualche modo fare uno slalom. Sappiamo che non è così, però questa è la mia impressione e non è un giudizio su chi fa questo ragionamento, perché credo che sia una questione di educazione e che si possa acquisire un'educazione alla visione ecosistemica del mondo. Ma anche perché c'è l'idea che l'economia sia una scienza più realistica, che non si basa sulle emozioni, mentre se io dico collasso biologico sembra una cosa emotiva, sembra una cosa che si basa su dati non certi, su cose che possono cambiare. Come se la paura di fronte a un collasso dell'economia non fosse una reazione emotiva, per quanto fondata, no? Come dire, bisognerebbe un po' ripulire questi termini. E allo stesso tempo noi non giudichiamo male tutte le piante. Ad esempio, una pianta velenosa magari può essere giudicata male. Ho letto che sempre in Inghilterra c'è stata una polemica, perché in una strada di non so dove, lungo il marciapiede, crescevano delle erbe alte e tra quelle erbe c'era la cicuta ed è velenosa. I bambini possono mangiarla e avvelenarsi e morire e devono camminare per strada e quindi, insomma, bisogna intervenire. Allo stesso tempo i nostri giardini sono pieni di piante velenose e molto spesso piante velenose come la cicuta sono anche sgradevoli da mangiare. Infatti non ci sono molte morti di bambini per via della cicuta, perché appunto la metti in bocca e la sputi non appena senti il sapore. Soprattutto se sei un bambino che notoriamente non ama l'amaro. Ma noi questo stigma non l'abbiamo verso piante ordinate, verso piante che ci piacciono. La Renutra japonica è una pianta bella. L'ailanto, in realtà, per quanto ad esempio abbia un odore strano, se stropicci le foglie sa di popcorn un po' andato, però è un bell'albero obiettivamente, anche se io personalmente sono così abituato a vederlo come un problema che non sempre mi godo la bellezza di alcuni esemplari stupendi. Quindi questo era un po' quello di cui volevo parlare oggi. Vorrei sapere anzi tu che ne pensi di questo problema. Se vuoi puoi mandare questo episodio a qualcuno che studia economia e che non sa assolutamente nulla di ecologia per dare a questa persona la possibilità di dire ah Francesco non capisce assolutamente nulla di economia e potremmo dircelo a vicenda. Ma fammi sapere tu che ne pensi con un commento qui sotto per appunto magari tu vivi in Inghilterra e hai avuto problemi immobiliari per colpa della Renutra japonica o di qualunque altra pianta, anche i bambù che sfondano la strada dopo 5 metri di distanza dall'aiuola in cui sono stati piantati. Fammi sapere che ne pensi. Ti invito a mettere un like se ti è piaciuto questo episodio e ma sì anche se non ti è piaciuto se ti va di iscriverti a questo canale su qualunque piattaforma possibile immaginabile e far iscrivere anche vicini di casa antipatici e simpatici e poi appunto condividere questo episodio con persone che possono essere interessate, persone invasive come l'Ailantus Altissima. Ma se vuoi darmi una grande mano puoi farlo seguendo il link qui sotto, il link che si trova qui sotto nella descrizione ed è un link che ti conduce a una pagina Patreon dove se vuoi puoi sostenere Giardino Rivelato, il mio lavoro con Giardino Rivelato, non rilevato, rivelato, che è quello di far arrivare la nostra discussione sul paesaggio a più persone possibile in maniera gratuita. E detto questo, nella descrizione quasi quasi ti metto anche altri due link sull'area neutra japonica e sull'ailanto, con due siti differenti va, uno con Wikipedia e uno con Actaplantarum che è un sito bello importante qui in Italia per, insomma, per parlare di piante. Dove siamo rimasti? Ah ecco, se puoi rimanere in contatto con me lo puoi fare su giardinorivelato.it e lì trovi tutti i link che servono per rimanere in contatto, anche per lavorare insieme. Se vuoi chiamarmi per una consulenza trovi un bottone dove puoi prenotare e poi, insomma, ci organizziamo per parlarci in una consulenza online per poterci conoscere e poter conoscere il tuo giardino. E a questo punto io ti ringrazio, mi sa che oggi siamo andati abbastanza lunghi, però, insomma, ti ringrazio di aver retto fino a qui e di aver portato avanti, di avermi ascoltato e spero di portare avanti questa chiacchierata con la scusa dei giardini.